Pronti a dare tirotti alle bottiglie nei paesi del vino, palcoscenico dell'orgoglio della nostra terra, dell'orgoglio di 50 cantine. Presentato il calendario Wine Fest 2019. Una bellissima iniziativa, anche molto importante e consolidata nel nostro territorio, a cui la provincia già da tempo dà il proprio sostegno. La più grande forse e sicuramente rassegna del vino piacentino, a cui partecipano nelle varie date i comuni di Borgonovo-Valtidone il 1 settembre, il comune di Ziano-Piacentino l'8 settembre, l'Alta-Valtidone il 15 settembre e da ultimo, ma non per importanza, Pianello con il 22 settembre. Una rassegna che tutti gli anni vede crescere sempre di più i soggetti coinvolti e che sa esaltare il gusto, le eccellenze e tutte le tradizioni dei vari comuni di tutta questa vallata bellissima, attraverso appunto un viaggio itinerante che va tra il vino, il cibo, l'arte e la musica. Nella sala del Consiglio provinciale i sindaci o loro delegati dei quattro comuni, ciascuno ha tracciato la fisionomia, il perimetro dei vari appuntamenti, il tema, l'identità dei prodotti, ortrugo, gutturnio, malvasia. Uno spazio diverso con toni diversi nel progetto comune. Tutti indistintamente avvertono l'altissimo valore della civiltà del vino, la necessità di perseguire prodotti di rango. Primo appuntamento il 1 settembre a Burgonovo-Valtidone. Primo appuntamento il 2 settembre a Burgonovo-Valtidone.